Pronto? Ciao, buongiorno. Come lo vuoi il gelato? Al limone. Eccolo, eccolo. Ok. Mi dai due euro? Ok. Grazie. Grazie. Com'è il gelato? Buono. Ok. Senti. Buono, l'ho finito. Lo vuoi un altro? Ecco. Ecco altri due euro. Ok. Come lo vuoi? Cioccolato. Cioccolato con la panna? La panna la metto? Sì. Tieni. Tieni. Allora eccolo qua. Ecco il gelato con la panna. Buono. Eh, lo so, è buonissimo. Grazie ai soldi. Mi dai soldi? Grazie. L'ho finito. Oh, già l'hai finito due gelati? Ma lo vuoi alla nocciola? Il gelato ti piace? Ok. Allora ecco il gelato alla nocciola. Ecco qua. Guarda che bel gelato alla nocciola. Mi lo mette in bocca? Ok. Buoni. Eh? Tutto bene? E io dai. Ma adesso... Ma c'è la gelata alla fragola? No, è finito. Mi dai la fragola? Va bene. Lo faccio apposta per te. Guarda. Eccolo qui. Ecco la fragola. Buono. E l'ho finito tutti. Tutti l'hai finito? Ma dai i soldi? Tieni i soldi. Eccoli i soldi. Ti metti in tasca? Una, due, quattro, cinque e sei. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.